la rifai rifai sbagliato tutto è partito già, devo partire di qua piano giù di la piano si allargati pure bravo quando la fai stai un po' più in là oppure la devi fare che quando sei davanti l'alludi sull'aria di modo che senti se lo tieni curva allargati bene vai 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 provala vai Luigi guarda se è così ciao e dice che a salire piuttosto di qua vuole salire di qua non lo so ha deciso lui bravo ha deciso lui Gino no no ho cambiato solo quello invece che fare il sassino facciamo il tronco si sei uguale preciso l'unica modifica è questa qua invece che fare il sassetto qua facciamo il tronco dai dai provare 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 lui però si deve dargli un 10 o 15 a prendere siamo qua in 20 quello che vuoi quello che vuoi quello che la senti il fatto è che non puoi tornare a casa con la moto ancora pulita si è alzato lui si è alzato lui ha tolto la sua posizione risciata guarda stile faccio passare tu devi guardare stile di risciata devi imparare devi guardare risciata guarda 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 bene qua faccia la moto di qua le parole vedi che arriva di là non lo so 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 vedi largo 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 vedi largo largo sali su di qua sali su di qua a filo no? si si butta giù la moto bravo giù di lì devi dire butta il tuo cartone così stacca va bene va bene si gira anche fuori gira anche fuori no questo no va bene fai quello che vuoi fai quello che vuoi fai quello che vuoi mi ha fatto portiere giro mi ha fatto portiere giro mi ha fatto portiere giro che c'è sporco ah ok fai quello che ti va lui non sapeva neanche di farlo fin se viro veste alla veste 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 mi ha fatto veste Noi 4, 5 5, 6 5, 6 6 7 8 8 9 10 10 13 14 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 27 25 25 25 Sì, sì, sì. Sì E' un tronchetto, non fa' troppo Chi è il guardo? E' la mano dello zampino E' la mano dello zampino Ti voleva filmare dal basso